Allora ho avviato la registrazione quindi siamo a 52 partecipanti, lascio la parola al dottor Miniello che ringrazio e ribadisco appunto utilizzate la chat per le domande perché poi appunto a metà sessione se ce ne sono oppure a termine della sessione proveremo a dare risposta a quelle che appunto perverranno. Prego. Grazie dottoressa. Di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di formazione che è dedicata appunto al sistema di monitoraggio. La presentazione, la giornata è stata organizzata in modo tale da partire diciamo ecco da una base teorica e man mano avvicinarci alla pratica del monitoraggio. Vi illustro da subito il programma, l'indice di questo corso, del corso odierno. Nella prima parte del corso vedremo il contesto di riferimento quindi qual è l'organizzazione del monitoraggio, la sua rilevanza all'interno della programmazione, gli attori che fanno parte del sistema del monitoraggio, quali sono i loro ruoli e quali sono le loro funzioni. La seconda parte sarà destinata invece ad illustrare i pilastri del sistema nazionale di monitoraggio, quindi come avviene lo scambio di dati, dalla raccolta fino alla validazione degli stessi. E nella terza parte invece affronteremo, ecco andremo come dicevo man mano che la giornata procederà, andremo man mano a vedere sempre di più l'aspetto pratico. Nella terza parte infatti affronteremo quelli che sono i warning e gli errori più comuni che il sistema rilascia nel momento in cui vi sono delle incongruenze nei dati che andiamo a caricare. Ed infine faremo proprio un caso pratico, quindi andremo sul sistema di monitoraggio su SGP e andremo a vedere come è strutturato, quali sono le varie sezioni, come bisogna alimentarle e come si fa appunto la verifica dei dati inseriti ed eventualmente la correzione degli errori e dei warning che dovessero essere presenti. Andiamo quindi nella prima parte dove vediamo qual è attraverso questa immagine l'importanza proprio del monitoraggio all'interno della programmazione del fondo sviluppo e coesione. L'importanza nasce già nella programmazione 2000-2006, però come sappiamo il monitoraggio è rilevante anche nelle programmazioni successive, sino a quella odierna, quindi nella 2007-2013-14-20 confluite come sapete all'interno del PSC. Come vediamo il monitoraggio è centrale rispetto a quelli che sono i temi della governance e dell'attuazione ed è centrale rispetto a quello che è il documento principale attorno al quale si organizza il controllo di gestione di un programma. L'importanza e la centralità per quanto riguarda la governance vuol dire che significa che il monitoraggio attraverso l'alimentazione dei dati che noi andiamo ad inserire supporta l'organismo responsabile della programmazione nel proprio processo decisionale. Nel senso che nel momento in cui l'organismo responsabile della programmazione osserva, analizza i dati che vengono caricati sul sistema di monitoraggio può automaticamente fare dei ragionamenti su come superare delle criticità che magari bloccano la corretta attuazione del programma e l'avanzamento del programma. La centralità rispetto al tema della governance è data e anche riferita all'organismo di certificazione il quale necessita di questi dati per poter richiedere il trasferimento delle risorse a livello centrale. Come dicevo, inoltre il monitoraggio si configura come una parte integrante del sistema di gestione e controllo perché appunto fornisce tutte quelle informazioni che sono necessarie affinché le attività di gestione, di valutazione e controllo possano essere man mano riviste e riadattate al caso specifico, al momento storico in cui si attua un programma. Infine l'importanza naturalmente nel campo dell'attuazione perché i dati di monitoraggio supportano i responsabili delle intese istituzionali, responsabili degli accordi di programma e dei SAD nel corretto avanzamento sia dal punto di vista fisico e procedurale sia dal punto di vista naturalmente finanziario degli interventi che vengono finanziati nell'ambito dei programmi del Fondo Sviluppo e Coesione. Vediamo quali sono le tipologie ora di monitoraggio. Vi sono tre tipologie diverse di monitoraggio. Il monitoraggio finanziario che permette la verifica da un punto di vista della spesa, quindi la verifica di quelli che sono gli impegni di spesa, di quelli che sono i pagamenti e quindi l'avanzamento finanziario dal singolo progetto agli strumenti attuativi fino ad arrivare all'intero programma. Il monitoraggio poi abbiamo il tipo di monitoraggio procedurale, ovvero quello che monitora l'avanzamento delle attività connesse ad un intervento. Nel caso ad esempio di un lavoro pubblico avremo un monitoraggio procedurale che parte dalla progettazione preliminare, dallo studio di fattibilità, passa per il definitivo, l'esecutivo, la pubblicazione del bando di gara, l'affidamento del lavoro, l'esecuzione del lavoro, il collaudo e la chiusura dell'intervento. Ecco, questo è semplicemente il monitoraggio procedurale. Ed infine abbiamo il terzo tipo di monitoraggio, è il monitoraggio fisico, ovvero quello che permette la verifica della convergenza verso gli obiettivi dei programmi. Ogni programma si propone di raggiungere determinati obiettivi a seconda delle linee di azione che vengono attuate. E naturalmente è necessario per verificare che appunto il programma arrivi agli obiettivi prefissati monitorare anche questi aspetti fisici, quindi questi indicatori che ci dicono appunto a seconda della tipologia di azione che svolgiamo, se abbiamo o meno raggiunto gli obiettivi che il programma si è prefissato. In questa slide vediamo una sintesi del processo di monitoraggio. Abbiamo appunto le fasi e coloro che sono responsabili di ciascuna fase, gli attori responsabili di ciascuna fase. La prima fase naturalmente è quella della raccolta dei dati che vede protagonista l'attuatore del progetto. L'attuatore naturalmente può essere diverso innanzitutto a seconda del fatto che il progetto sia a titolarità o a regia. Nel caso in cui il progetto sia a titolarità vuol dire che la regione è programmatore dell'intervento e poi avremo un attuatore che potrà essere un comune piuttosto che una scuola o altro ente individuato attraverso una procedura pubblica. Questo ente è l'attuatore del progetto ed è colui che è responsabile della raccolta dei dati perché è colui che ha i dati in proprio possesso. Abbiamo poi l'amministrazione titolare che appunto è la regione che ha invece il compito di acquisire questi dati, di inviarli, di prevalidarli e infine di validarli. Infine abbiamo il MISEM che ha il compito di condividere, consolidare questi dati, verificarli ed inviare degli eventuali rapporti di verifica. Come dicevo, la parte fondamentale del monitoraggio è legata a quelli che sono gli attori, i ruoli e le funzioni che questi attori ricoprono. Come spiegavo sin dall'inizio, cercherò di procedere sempre di più verso una parte pratica, cioè andiamo dalla teoria alla pratica per poter essere più efficienti nell'utilizzo del sistema poi alla fine di questa giornata di formazione. Allora, gli attori di riferimento che troviamo sul sistema SGP sono i seguenti. Abbiamo il responsabile dell'inserimento che ha come sigla informatica RI, quindi per fare un esempio io mi chiamo Angelo Miniello, la mia utenza RI è Miniello A-RI. Abbiamo poi il responsabile dello strumento attuativo accordo di programma quadro rafforzato o del SAD che ha quale utenza informatica, la sigla RS, e poi infine abbiamo il manager dello strumento che ha quale sigla informatica MS. A ciascuno di questi attori corrispondono naturalmente dei compiti e delle responsabilità all'interno di quelle che sono le diverse fasi che abbiamo visto nella slide precedente e che corrispondono appunto alle diverse fasi del monitoraggio, dalla raccolta dei dati fino all'ultima fase che è la validazione degli stessi. Vediamo qual è il ruolo adesso del singolo attore. Ah, aggiungo un'altra cosa. Oltre a questi ruoli, quindi RI, RS e MS, c'è la possibilità sul sistema SGP di creare un'utenza di sola lettura. Normalmente questa utenza di sola lettura viene data all'organismo di certificazione che non ha necessità di alimentare il sistema di monitoraggio o non è naturalmente implicato nella corretta attuazione nel senso stretto dei singoli interventi o del programma e quindi normalmente l'organismo di certificazione ha un'utenza LS, ce la possono avere anche altri soggetti ed è un'utenza di sola lettura, ma non l'affronteremo perché appunto non incide in quello che è il processo appunto che va dalla raccolta alla validazione dei dati. Vediamo che cosa fa in questa slide il responsabile dell'inserimento. L'attività che svolge è quella appunto legata alla fase di raccolta dei dati. Quindi il responsabile dell'inserimento inserisce, aggiorna e modifica i dati del progetto secondo quelle che sono le scadenze che sono previste per il monitoraggio. La scadenza è sempre bimestrale e poi vedremo in seguito come viene distinta tra i vari attori che si occupano del monitoraggio. Quando il responsabile dell'inserimento entra nel sistema, il suo compito è quello di alimentare appunto il sistema nella fase di inserimento. Il progetto al quale è assegnata la sua utenza, che è il progetto per il quale lui o lei è responsabile unico del procedimento, si trova appunto in questa fase, inserimento. In questa fase appunto il responsabile dell'inserimento deve alimentare il sistema e fare quei tre tipi di monitoraggi che poi andremo a vedere nello specifico come si fanno, quindi monitoraggio fisico, quello procedurale e quello finanziario. Nel momento in cui il responsabile dell'inserimento ha completato la sua attività, cambia lo stato del progetto, della versione del progetto che passa da inserimento a verifica locale. Nel momento in cui avviene questo passaggio, il progetto viene trasferito al responsabile dello strumento, il quale avrà la possibilità di verificare se vi sono incongruenze attraverso una fase di verifica di errori e warning ed eventualmente il responsabile dello strumento può mettere questo progetto in correzione e quindi rimandarlo al responsabile dell'inserimento, scrivendo magari anche delle note nelle quali spiega il perché di questo rinvio in correzione al responsabile dell'inserimento, il quale avrà il compito appunto di risolvere le criticità e riporre il progetto in verifica locale. Come dicevo, ad ognuno di questi soggetti presenti su SGP corrisponde naturalmente un soggetto che ha un ruolo specifico all'interno del programma. Nel caso specifico, come dicevo, il ruolo del responsabile dell'inserimento da un punto di vista amministrativo è quello di responsabile del procedimento. Nel caso degli interventi appunto a regia è un soggetto che fa capo all'enti attuatore quindi magari facciamo l'esempio pratico il responsabile di un ufficio tecnico comunale piuttosto che il DSGA di una scuola, oppure può essere un RUP interno all'amministrazione regionale per quegli interventi che vengono attuati appunto a titolarità, quindi direttamente dall'amministrazione regionale. Il secondo ruolo, il secondo attore che andiamo ad analizzare è il responsabile dello strumento. Il responsabile dello strumento è un profilo naturalmente più alto rispetto al responsabile dell'intervento ed ha quale compito quello di inserire la prima versione del progetto. Quando si inserisce per la prima volta un progetto è necessario avere un set di informazioni che vengono generalmente raccolte attraverso una scheda in formato Excel nella quale abbiamo i dati di base di questo progetto, quindi la localizzazione, il finanziamento quella che è le date previste per l'iter procedurale e alcune altre informazioni appunto proprio di base che sono necessarie al responsabile dello strumento per poter inserire per la prima volta l'intervento su SGP. Una volta che viene inserito su SGP, per il primo bimestre questo intervento in genere non viene monitorato e comincia il monitoraggio diciamo a partire dal secondo bimestre. Il responsabile dello strumento ha poi un altro compito molto importante che è quello di creare le utenze RI. Le crea appunto fornendo sia il nome utente che la password al soggetto che poi deve appunto monitorare, alimentare il sistema di monitoraggio e assegna a ciascun utente che crea, associa il progetto per il quale è responsabile. Non è che ogni responsabile intervento va su SGP e può avere accesso a qualsiasi progetto, assolutamente no. È il responsabile dello strumento che assegna il singolo intervento al singolo responsabile. Il responsabile dello strumento inoltre visualizza e verifica i progetti e provvede, come dicevo prima, a fare una verifica nel momento in cui il progetto viene messo nella fase di verifica locale. Fa una verifica e controlla se vi sono degli errori o degli warning che devono essere eventualmente risorti. In quel caso pone il progetto in correzione e lo rimanda sostanzialmente indietro al responsabile dell'intervento. Qualora invece non vi fossero criticità per le quali non è necessario attivare questa fase, il responsabile dello strumento pone il progetto nello stato di verifica centrale e lo invia al manager dello strumento. All'interno del programma il responsabile dello strumento è il responsabile della linea di azione o il responsabile unico dell'attuazione o il responsabile dell'APQ. Ho inserito tutti e tre gli attori, diciamo, amministrativi perché appunto il monitoraggio è lo stesso sia per la programmazione 2000-2006, sia per la 713, sia per la 1420. Vediamo infine il manager dello strumento. Il manager dello strumento è la figura più alta che troviamo all'interno del sistema di monitoraggio. Il manager strumento può visualizzare tutti i progetti del programma, può effettuare il primo inserimento dello strumento e anche del progetto e può richiedere, come accade per il responsabile strumento, la correzione di un dato di monitoraggio. Inoltre è il compito sostanzialmente di procedere alla fase di validazione dei dati, che è la fase nella quale la regione approva, appunto, valida il blocco dei dati di monitoraggio e li invia all'Igrue. Una volta che sono inviati all'Igrue, i dati vengono riverificati un'ultima volta e cristallizzati. L'Igrue non fa operazioni di correzione, di verifica, perché i dati arrivati alla validazione sono già puliti, ma sostanzialmente il compito dell'Igrue è quello semplicemente di cristallizzare questi dati e renderli immodificabili. Il manager dello strumento, essendo la figura più alta all'interno del sistema SGP, naturalmente è anche la figura più alta all'interno del programma ed è infatti il responsabile del piano sviluppo e coesione, quindi o il responsabile dell'intesa 2000-2006, o l'organismo di programmazione 7-13, o il RUAP 14-14-20. Vediamo adesso più nello specifico, sempre su base teorica, le fasi del monitoraggio. Come dicevo, la prima fase è quella della raccolta dei dati. La raccolta dei dati avviene presso il responsabile del procedimento e quindi è una fase che avviene all'interno dell'ente attuatore del progetto. L'ente attuatore può essere, appunto, a titolarità, a seconda che l'intervento sia gestito a titolarità o a regia, può essere interno o esterno all'amministrazione regionale. La seconda parte è l'invio dei dati. I dati vengono praticamente inviati, come dicevo, attraverso il sistema SGP alla banca dati unitaria, la BDU. La BDU ha il compito, appunto, non solo di supportare le attività di programmazione, ma anche di garantire una trasparenza di questi dati. Infatti, tutti i dati che sono presenti in BDU possono essere liberamente scaricati in formato editabile per poter permettere a chiunque di effettuare degli studi, delle analisi, dei ragionamenti su quello che è, appunto, l'andamento della programmazione in Italia. La frequenza dell'invio di questi dati è discrezionale. Infatti il sistema è un sistema aperto, è a ciclo continuo, si dice. Il periodo, però, per la validazione di questi dati è ben preciso ed è un periodo bimestrale. Quindi ogni due mesi i dati raccolti vengono analizzati, fanno i vari passaggi che vedevamo prima e vengono validati. Il sistema prevede poi una fase di pre-validazione, cioè una fase in cui le amministrazioni responsabili dei programmi possono, in BDU, appunto, fare anche più pre-validazioni e quindi, diciamo, verificare che i dati siano puliti. Attraverso questa fase i dati del programma vengono sottoposti a degli specifici controlli, per cui è possibile visualizzare nel dettaglio gli esiti di questi controlli. Questo, appunto, permette a chi deve raccogliere una grande mole di dati e validare una grande mole di dati, appunto, del manager dello strumento, di fare delle verifiche e di inviare i dati più puliti possibili. La quarta fase è la fase della validazione, nella quale, appunto, l'organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione di un programma convalida i dati e ne sancisce, appunto, l'ufficialità. La validazione è bimestrale ed avviene entro il ventitresimo giorno di chiusura del bimestre di riferimento. Facciamo l'esempio di un monitoraggio che scade al 30 di aprile. La validazione deve avvenire, ecco, entro il 23 di maggio. Infine, abbiamo la quinta ed ultima fase, che è la fase del consolidamento e della verifica. Come avevo anticipato precedentemente, a partire, appunto, dal termine della conclusione delle attività di validazione, il MISE effettua il consolidamento di questi dati in BDU. Il consolidamento non è nient'altro che una copia di questi dati, quindi, che vengono cristallizzati, in modo tale che, appunto, non possano essere più modificati. I dati confluiscono, quindi, in questa grande banca dati, la BDU, la banca dati unitaria, che, come dicevo prima, ed è una cosa importantissima, è una banca dati aperta alla quale chiunque può accedere attraverso il sito OpenCohesione. Andiamo adesso a vedere come queste fasi si svolgono operativamente all'interno del sistema di monitoraggio. Quindi, ognuna di queste fasi viene, appunto, riportata, viene attuata, ecco, all'interno del sistema di monitoraggio. La prima fase, che è quella della raccolta dei dati, sul sistema di monitoraggio è la fase di inserimento. Cioè, come dicevo prima, il responsabile dell'inserimento, quando entra nel sistema, troverà il proprio progetto in questo stato, inserimento. In questo stato, il responsabile dell'inserimento ha il compito di inserire, aggiornare, modificare i dati. Dalla fase di inserimento, poi, come dicevo, l'intervento deve essere passato nella fase di verifica locale. La fase di verifica locale è la seconda fase che troviamo su SGP. Ed è la fase in cui il responsabile dello strumento raccoglie questi dati inseriti dai responsabili del procedimento dei vari interventi finanziati dal programma e fa un'ulteriore verifica. Al termine di questa verifica, l'intervento può essere posto in correzione, quindi rimandato indietro, oppure può essere posto in verifica centrale e quindi inviato al manager dello strumento. La terza fase è la fase della validazione che è effettuata appunto dal manager dello strumento, quindi vediamo come la parte teorica è ricalcata quasi completamente nella parte pratica. Il manager dello strumento effettua la validazione dei dati relativamente al programma attuativo o di propria competenza o ai singoli strumenti attuativi. Questi vengono man mano che sono validati posti in verifica centrale. Al termine di questa attività su SGP vedremo che gli strumenti passano in uno stato che è definito validato o verificato. Non possono passare i progetti che presentano un errore bloccante o un'incoerenza nei dati e quindi non possono essere validati. Come vedremo successivamente abbiamo due tipologie di incongruenza, il warning e l'errore. L'errore è bloccante, cioè non permette appunto il passaggio di stato neanche dalla verifica locale a quella centrale. Infine abbiamo la fase di consolidamento che è la fase in cui che non viene gestita a livello regionale ma viene gestita dal MISE ed è la fase in cui il MISE prende in carico i dati di monitoraggio che sono stati trasmessi appunto dall'amministrazione regionale e conclude appunto la procedura di verifica ponendo gli strumenti nello stato consolidato. Vediamo adesso quali sono le tempistiche. Come dicevo, le tempistiche sono la tempistica del monitoraggio e bimestrale. Vediamo quali sono i sei bimestri di riferimento per ciascun attore coinvolto nel sistema di monitoraggio. Allora, le scadenze sono come potete vedere nella prima colonna al 28 febbraio, al 30 aprile, al 30 giugno, eccetera, eccetera, fino al 31 dicembre, sono le scadenze che deve rispettare il responsabile dell'inserimento. Quindi colui che è responsabile di un procedimento interno o esterno all'amministrazione regionale deve inserire, aggiornare, modificare eventualmente i dati entro queste specifiche date. Perché? Perché abbiamo poi due successive scadenze. Una è quella del decimo giorno successivo al bimestre, che è una scadenza che deve rispettare il responsabile dello strumento. Il responsabile dello strumento entro il decimo giorno successivo alla fine del bimestre ha il compito di fare le attività di verifica ed eventualmente di rimandare anche indietro in correzione l'intervento. Quindi è un'attività che va svolta anche in considerazione del fatto che bisogna eventualmente permettere al responsabile dell'inserimento di fare le opportune correzioni. La terza scadenza invece è quella che coinvolge il manager dello strumento e che è appunto la validazione dei dati. La validazione dei dati come dicevo anche precedentemente deve avvenire entro il 23esimo giorno successivo alla scadenza del monitoraggio. Vediamo poi in questa slide quali sono i compiti più specifici che devono essere svolti entro le date che abbiamo visto precedentemente. Quindi entro le date delle scadenze del monitoraggio il responsabile dell'intervento deve riverificare i dati eventualmente aggiornarli e deve fare il passaggio di stato dell'intervento da inserimento a verifica locale. Questo deve avvenire tutto entro la scadenza del bimestre che è sempre appunto la scadenza le scadenze indicate nella seconda colonna dell'immagine della tabella che vedete. Le seconde scadenze invece sono quelle che come dicevo afferiscono il responsabile dello strumento che deve effettivamente verificare i dati presenti sul sistema inseriti dai responsabili degli interventi e appunto come dicevo prima è importante che il responsabile dello strumento tenga ben presente il fatto che bisogna lasciare il tempo al responsabile dell'intervento di fare eventualmente le opportune correzioni. Quindi è necessario in tutto il sistema di monitoraggio che vi sia un certo coordinamento tra gli attori che sono implicati appunto nelle diverse fasi. Il compito del responsabile dello strumento si conclude nel momento in cui i progetti vengono passati di stato dalla verifica locale alla verifica centrale. Infine appunto entro il ventitresimo giorno vi è l'ultima fase che è quella appunto delle verifiche che vengono effettuate dal manager dello strumento. Il manager dello strumento effetta i controlli e le verifiche di competenza e fa l'invio di questi dati all'igrue per ottenerne la validazione. Alla conclusione di questa procedura di validazione il manager strumento procederà a porre a modificare lo stato dei singoli progetti dei singoli strumenti da validati a verificati e invece quelli che vengono scartati perché sono presenti degli errori dei bloccanti delle incongruenze che bloccano la possibilità di chiudere il monitoraggio questi strumenti questi progetti verranno messi nello stato non monitorato. vediamo adesso qual è la funzione di controllo che abbiamo la possibilità di utilizzare sul sistema gestione progetti una volta che noi abbiamo inserito i dati su SGP abbiamo la possibilità il sistema dà la possibilità nel tab anagrafica di fare un controllo prima di procedere alla modifica dello stato del progetto quindi noi possiamo andare nel tab controlli che è presente appunto nella pagina dell'anagrafica e possiamo premere in sequenza questi due pulsanti attiva procedura e controlla esito quando facciamo attiva procedura il sistema automaticamente va a fare una verifica di coerenza dei dati che sono stati inseriti e nel caso vi risultino degli errori o dei warning ce li riporta ce li riporta con un codice e con una breve descrizione questa breve descrizione ci dice qual è il tipo di incongruenza che il sistema ha verificato e di conseguenza noi abbiamo la possibilità di andare ritornare sui dati andare a verificare quale tipo di incongruenza è stata verificata è stata segnalata dal sistema e andare a correggerla prima di fare il passaggio di stato possiamo vedere adesso alcuni esempi di quelli che possono essere i warning o gli errori più comuni io adesso ne ho riportati alcuni ma diciamo aprendo il manuale SGP potreste tranquillamente verificare che di errori il sistema ne può dare veramente tanti a volte è necessario capire anche come ragiona proprio il sistema e qui ho riportato alcuni errori o warning anche affinché insomma possiamo vedere appunto come il sistema a volte fa dei ragionamenti che sono diversi leggermente diversi da quello che è un iter può essere un iter amministrativo che come sappiamo può presentare diversi diversi intoppi il sistema naturalmente è di per sé un po' più rigido di quella che è la realtà della realtà sociale vediamo questo primo warning per esempio questo è molto semplice il totale dei pagamenti per il periodo di riferimento è superiore al totale degli impegni è chiaro questo ecco rispetto a quello che dicevo questo è un tipo di warning che appunto essendo warning non è bloccante ed è molto semplice anche da comprendere è chiaro che così come in amministrazione non possiamo procedere a un pagamento se non abbiamo un impegno alla base dello stesso se sul sistema di monitoraggio nel tab degli impegni noi abbiamo un importo che è inferiore a quelli che sono i pagamenti invece caricati il sistema naturalmente ci dice che questo non è possibile e quindi dobbiamo andare a vedere se abbiamo inserito un pagamento in più o se abbiamo dimenticato di inserire un impegno vediamo quest'altro invece che è un errore importo costo da realizzare in anni precedenti a quello del periodo di monitoraggio diverso da zero questo è un errore che fa capo ecco al al tab piano costi sembra complicato invece è molto logico quello che ci dice se noi nel piano costi abbiamo l'obbligo la necessità l'obbligo di inserire diciamo una stima di quando verranno realizzati i costi per realizzato il sistema intende pagato quindi noi dobbiamo prevedere all'interno di questo piano costi quando come appunto responsabili del procedimento ecco mi metto nei panni del responsabile dell'inserimento che è colui che opera maggiormente sul sul sistema e che appunto è responsabile dell'inserimento della raccolta dell'inserimento dei dati ecco nel momento in cui noi andiamo a fare questa previsione di costi da realizzare e andiamo ad aggiornare i costi realizzati è chiaro che non possiamo fare una previsione per un periodo che è antecedente al monitoraggio che stiamo facendo questa cosa la dobbiamo tenere presente anche rispetto alle date nel senso che come dicevo le date del monitoraggio le scadenze del monitoraggio sono bimestrali quindi il sistema ragiona al 28 febbraio al 30 aprile al 30 giugno che cosa vuol dire che siccome però il sistema è aperto e quindi noi possiamo alimentare il sistema in qualsiasi momento quando andiamo ad alimentare una versione di un progetto ad esempio al 30 di aprile noi anche se lo stiamo facendo il primo di aprile dovremmo considerare come date previste quelle successive al 30 di aprile se noi facciamo il monitoraggio il primo di aprile e facciamo una previsione al 10 di aprile essendo la scadenza del bimestre il 30 di aprile il sistema ci dirà non è corretto ha inserito una data antecedente al periodo una data prevista antecedente al periodo di monitoraggio questo è un errore abbastanza comune a volte gli enti attuatori appunto non come dire non afferrano al volo il problema perché non considerano come ragione il sistema che appunto ragiona in base a quelle che sono le scadenze della della previste appunto per la validazione dei dati quindi questo è molto semplice come come errore semplice da risolvere però è comunque un errore quindi nel caso in cui ci trovassimo di fronte a un D5 ecco è un errore D5 dobbiamo per forza andarlo a correggere altrimenti il sistema non ci fa andare avanti non ci fa fare il passaggio di stato vediamo poi quest'altro importo costo totale ovvero costo realizzato più costo da realizzare più le economie diverso dal finanziamento totale questo anche abbastanza diciamo semplice da capire nel senso che il sistema fa naturalmente una somma noi partiamo da un finanziamento che può essere interamente regionale o può avere una quota di cofinanziamento dell'ente attuatore e questo finanziamento è chiaro che deve essere uguale a quello che è il totale del piano costi quindi il costo realizzato il costo da realizzare nel periodo successivo al monitoraggio che stiamo facendo e deve essere uguale naturalmente a questa somma più quella delle economie altrimenti il sistema ci dà un errore perché trova una cifra che anche se solo di un centesimo più alto più bassa non riporta quello che è il finanziamento totale vediamo invece quest'altro quest'altro è un po' più diciamo ecco qui bisogna capire un pochettino come ragiona il sistema il warning di 9 per la fase corrente la somma dei costi da realizzare deve essere uguale a 0 quando accade questo questo quando il sistema ci riporta questo warning questo ce lo riporta quando nella nella parte del delle procedure il sistema vede tutte date a conclusione delle procedure facciamo l'esempio appunto di un lavoro pubblico nel caso in cui appunto noi abbiamo inserito tutte le date di un lavoro quindi dalla progettazione preliminare fino siamo arrivati fino al collaudo perché magari appunto nella realtà come dicevo prima può accadere che un comune chiuda tutte quante le fasi però non abbia ancora completato i pagamenti ma nel frattempo il lavoro è finito è stato collaudato ed è anche funzionale però i pagamenti non sono stati completati nel momento in cui noi non abbiamo dei pagamenti completati avremo anche dei costi da realizzare sul sistema questa cosa qui per il sistema di monitoraggio non è possibile nel senso che se abbiamo un iter procedurale tutto concluso secondo il sistema noi dobbiamo aver concluso anche tutti i pagamenti quindi per poter risolvere questo questo warning ecco è necessario riaprire anche se poi magari nella realtà non è così ma è necessario riaprire il iter una delle fasi del iter procedurale per poter per poter superare questo questo tipo di warning altrimenti questo questo rimane e questa ecco a volte ecco come dicevo la realtà amministrativa è leggermente diversa da come ragiona il sistema che ragiona in maniera ecco da sistema appunto informatico in maniera perfetta ma la realtà la nostra realtà non è così purtroppo vediamo poi invece quest'altro warning che è il 2.17 ecco questo è simile per il progetto risultano presenti i pagamenti e non risulta valorizzata alcuna data fine effettiva sugli step del relativo iter procedurale se vede dei pagamenti il sistema si chiede come mai ci sono dei pagamenti ma qui di attività non sono state concluse vorrà dire sicuramente comunque questo nella realtà in genere è così perché non possiamo procedere a un pagamento se prima non abbiamo dei delle attività svolte alla base e in questo caso appunto è il contrario dobbiamo andare nel iter procedurale se abbiamo fatto dei pagamenti dobbiamo andare nel iter procedurale ci saranno sicuramente delle fasi che sono state completate dobbiamo inserire le date a conclusione le date effettive di conclusione di queste fasi vediamo poi in quest'altra slide alcuni altri errori o warning che possono presentarci vediamo il D10 per esempio per la fase corrente la somma dei pagamenti non può essere diversa dalla somma degli impegni e dei costi realizzati questo è molto simile a quello che vi facevo vedere prima è chiaro che se io ho dei pagamenti non posso avere degli impegni che siano minori dei pagamenti che ho fatto o dei costi realizzati che sono minori di quelli che ho dei pagamenti che ho effettuato perché ripeto i pagamenti e i costi realizzati secondo il sistema diciamo devono fare scopa per intenderci vediamo invece quest'altro D3 questo è un errore comunissimo che capita sempre ma è semplicissimo però capita molto molto spesso date inizio fase e fine fase previste anteriori al periodo di monitoraggio in corso in assenza di valorizzazione delle date effettive questo di questo tipo di errore ve ne parlavo anche prima dobbiamo sempre tener presente quali sono quali sono le date del monitoraggio cioè anche se il sistema è continuo noi abbiamo delle scadenze primestrali e il sistema ragiona rispetto a quelle scadenze quindi tutte le fasi che noi le date delle fasi che noi andiamo ad inserire devono tenere presente queste scadenze spessissimo capita che gli enti attuatori magari anche perché considerano più importante l'aspetto finanziario piuttosto che quello procedurale non vanno ad aggiornare questi dati e quindi questo tipo di errore ci dice semplicemente appunto che al 28 di febbraio io non posso prevedere che un'attività la concludo il 10 di gennaio quindi devo andare a verificare se quell'attività è conclusa e quindi se si è conclusa il 10 di gennaio inserirò questa data anche all'interno dello spazio previsto per la conclusione di quell'attività oppure se questa attività non si è conclusa vuol dire che dovrò prevederla in una data la conclusione la dovrò prevedere in una data successiva al periodo al bimestre di monitoraggio di riferimento vediamo poi invece il D4 dove dice per la fase corrente devono essere valorizzate tutte le date effettive questione errore e questo pure deriva dal fatto che il sistema ragiona in maniera diversa appunto dalla realtà amministrativa nel caso in cui noi abbiamo completato i pagamenti abbiamo completato abbiamo messo facciamo l'esempio di un progetto che cuba 100.000 euro di questi 80.000 euro sono pagamenti e 20.000 euro sono economie nel momento in cui noi inseriamo la totalità dei pagamenti inseriamo le economie il sistema pensa se utilizziamo questo termine pensa che il progetto sia concluso quindi si chiede come mai se abbiamo completato i pagamenti abbiamo già inserito le economie vi sono ancora delle date previste nell'iter procedurale e questo è un ulteriore in questo caso naturalmente dovremmo contattare l'entattuatore perché molto probabilmente o è stato inserito per sbaglio un pagamento o le economie sono state inserite prima del tempo oppure oppure vuol dire che le fasi sono completate e quindi tutte le date a conclusione delle varie fasi devono essere valorizzate vediamo l'ultimo errore di questa slide che è assenza del valore a conclusione dell'indicatore di realizzazione fisica in presenza di data fine effettiva per la fase di esecuzione o in congruenza tra il valore raggiunto e quello concluso come abbiamo visto nella prima parte di questa attività di formazione vi è un tipo di monitoraggio che è quello degli indicatori quindi un monitoraggio fisico serve per verificare attraverso per alimentare quella parte del monitoraggio che serve a verificare se gli obiettivi prefissati dal programma attraverso gli strumenti gli interventi eccetera eccetera vengono raggiunti in che forma vengono raggiunti o in che forma ci si scossa da quegli obiettivi prefissati c'è una parte quindi nel sistema di monitoraggio che vedremo comunque successivamente che è quella appunto degli indicatori fisici in questa in questa sezione del monitoraggio noi dobbiamo inserire faccio un esempio abbiamo prefissato di fare 100 metri di marcia a piede ok questo è l'obiettivo di questo intervento a conclusione dell'intervento sono stati effettivamente realizzati questi 100 metri di marcia a piede questo è quello che vuole sapere il programma e lo vuole sapere questo per ritornare all'errore nel momento in cui abbiamo tutte le date concluse cioè se abbiamo tutto lì del procedurale concluso quindi esecuzione dei lavori concluso e collaudo concluso funzionalità conclusa chiuso l'intervento concluso il sistema giustamente si chiede come mai allora non ho l'informazione sul sul sull'indicatore a conclusione dell'intervento quindi dobbiamo andare in questa sezione del dell'SGP e andare a verificare appunto andare ad inserire ad alimentare questa parte del sistema che è quella appunto relativa alla parte fisica e degli indicatori fisici vediamo poi abbiamo preparato questo è l'ultima slide poi se ci sono delle domande su degli errori specifici o degli warning che magari vi sono capitati e che non sui quali oppure vi hanno chiesto insomma come risolverli e non avevate insomma non sapete come risolverli potete farmi qualsiasi domanda non so tutto ma comunque cerchiamo di dare una risposta comunque questa è l'ultima slide ho preparato appunto altri tipi di warning o di errori che riguardano invece parti del sistema che vengono alimentate una volta sola per esempio l'errore SGP1 mancanza dell'indicazione del soggetto destinatario del finanziamento del progetto prevista per la tipologia di operazione erogazione dei finanziamenti e servizi a singoli destinatari allora come sapete gli interventi possono essere realizzati a regia o a titolarità nel momento in cui abbiamo un intervento a regia nel sistema deve essere presente un soggetto che è destinatario del finanziamento e un soggetto anche aggiungo attuatore del finanziamento questo viene inserito la prima volta se tra l'altro non è già inserito nell'anagrafica dobbiamo fare anche proprio un primo inserimento come si fa per l'intervento o per lo strumento c'è la possibilità di fare un primo inserimento anche di un soggetto giuridico facciamo l'esempio di un comune che appunto non è presente nel sistema l'anagrafica di questo comune le informazioni basilari di questo comune devono essere per forza inserite devono essere inserite nell'anagrafica dei soggetti sono informazioni basilari tipo la localizzazione l'indirizzo del comune la partita IVA e una volta costituito o costruito questa anagrafica questa anagrafica di questo soggetto deve essere per forza di cose associato all'intervento c'è la sezione di SGP che si chiama proprio soggetti correlati dove il sistema vuole sapere chi è il programmatore dell'intervento chi è il soggetto destinatore del finanziamento e chi è quello dell'intervento quindi sono errori bloccanti nel caso in cui non vi è questa informazione il sistema non permette il passaggio di stato e quindi dobbiamo sapere che cosa dobbiamo fare se nell'inserire il soggetto lo troviamo lo inseriamo qualora non lo trovassimo dobbiamo andare a fare il primo inserimento e quindi inserire anche proprio l'anagrafica di questo soggetto non presente al sistema vediamo questo è lo stesso la 26 inserimento del soggetto attuatore è obbligatorio è molto semplice appunto se abbiamo un intervento in questo caso sia a titolarità che a regia il sistema vuole sapere chi è che attua l'intervento vediamo la 7 invece è obbligatorio l'inserimento della localizzazione dell'intervento questo è una parte del sistema che riguarda l'anagrafica quando entriamo e apriamo il progetto noi abbiamo una schermata dove è necessario avere anche la localizzazione geografica dell'intervento nel caso non ci sia il sistema ci dà un errore e non possiamo prevedere il fare i passaggi di stato abbiamo quest'altro invece lobby B0 mancano i valori fisici di realizzazione e indicatori occupazionali ci sono degli indicatori che sono obbligatori che vanno inseriti appunto nella parte degli indicatori fisici e nel caso in cui non vi siano bisogna inserirli bisogna proprio inserire l'indicatore in coerenza con quelli che sono gli obiettivi dell'azione sono quelli collegati proprio al programma e naturalmente bisogna alimentare a seconda della fase in cui ci troviamo abbiamo infine riportato quest'altro errore che è l'OBB7 sezione A7 localizzazione geografica del progetto non sono stati valorizzati tutti i campi previsti dal TU praticamente questo errore è sempre legato alla parte dell'anagrafica dove c'è una sezione nella quale il programma ci richiede di inserire le coordinate geografiche io in genere lo faccio semplicemente andando su Google faccio una ricerca dell'ente attuatore scrivo proprio localizzazione geografica coordinate e inserisco le coordinate di latitudine e longitudine che sono previste dal sistema se avete delle domande si Angelo allora chiederei ho fatto la domanda ma al momento nessuno ha battuto il ciglio quindi visto che anche per un attimo fermare lo speech e quindi capire anche se ci sono cose sulle quali è necessario ritornare anche perché come abbiamo detto il monitoraggio è veramente una parte fondamentale per del programma è un processo veramente importante perché serve a tutta una serie di adempimenti anche quindi per questo motivo visto che i warning e gli errori sono appunto impediscono che il processo possa essere poi portato a termine e quindi conoscere e capire quali sono gli errori più comuni è veramente una parte essenziale di questa di questa mattinata sarebbe utile anche capire da i vari partecipanti se hanno mai appunto approcciato a questi errori e se appunto si ritrovano in questi errori ed eventualmente capire se appunto ora è chiaro anche dalla tua spiegazione come trattarli quindi è vero che comunque è sempre disponibile l'assistenza tecnica però è anche vero che magari anche capire se è tutto chiaro per noi diciamo è fondamentale quindi magari scriveteci anche in chat che è tutto chiaro e noi andiamo avanti altrimenti rimaniamo fermi sui warning e gli errori più comuni anche perché siamo arrivati a 72 partecipanti e non vorrei capisco che è comunque un tema abbastanza diciamo tecnico però è anche vero che diciamo almeno un terzo dei partecipanti a questo webinar dovrebbe diciamo avere a che fare con il monitoraggio considerando che un altro terzo magari ha a che fare con i controlli e pensando che magari un altro terzo ancora è occupato diciamo invece su proprio l'attuazione degli interventi allora grazie Lando per averci diciamo confortato che è tutto chiaro vediamo appunto lasciamo qualche altro istante per vedere se qualche altro partecipante magari ha qualche dubbio qualche perplessità oppure al contrario è tutto meravigliosamente chiaro e così che poi possiamo andare nella seconda parte di questo incontro di questa mattina grazie Luigia per poter appunto far vedere delle schermate diciamo più operative di come appunto funziona il sistema di monitoraggio SGP allora ti do la parola Angelo ok grazie allora andiamo nell'ultima parte della dell'attività di formazione che appunto vuole rappresentare il processo proprio dal dalla pagina iniziale appunto del sistema di monitoraggio dall'accesso ecco scusate non mi veniva il termine dall'accesso al sistema di monitoraggio fino alla conclusione delle delle attività appunto con con quella attività di controllo dei dati e di verifica degli eventuali warning o errori che vi facevo vedere prima attivazione procedura controlla esito allora vado ho fatto degli screenshot delle 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 varie appunto fasi nelle quali procediamo all'interno del sistema di monitoraggio lo metto a tutto schermo perché così magari c'è un po' più è un po' più semplice visualizzare quello che viene appunto riportato a video allora questa è la schermata iniziale di SGP in questa parte chiedo scusa ci dovrebbe essere un puntatore ma non lo vedo adesso lo vedo vediamo se schermo intero ah eccolo qua c'è ok in questa parte qui noi facciamo il login all'interno del sistema quindi mettiamo il nostro nome utente la nostra password clicchiamo su ok e entriamo nel sistema una volta entrati nel sistema ci ritroviamo questa schermata sulla sinistra abbiamo il menu principale vi illustro soltanto diciamo quelle che sono le voci che utilizza di più un responsabile dell'inserimento che come dicevo è il soggetto comunque più importante perché colui che raccoglie i dati li inserisce li aggiorna insomma non che gli altri non abbiano importanza ci mancherebbe però è chiaro che la parte principale di un sistema di monitoraggio è quella della raccolta dei dati dell'alimentazione del sistema stesso ed è il compito e responsabilità del responsabile dell'inserimento se ricordate ecco giusto per fare subito una breve parentesi vi ho detto appunto dell'errore soggetto attuatore soggetto destinatario del finanziamento le anagrafiche dei soggetti vanno inserite qui se noi clicchiamo qui adesso purtroppo essendo degli screenshot non posso farlo vedere se noi clicchiamo su anagrafiche noi abbiamo la possibilità attraverso la voce soggetti di inserire appunto l'anagrafica di un nuovo soggetto comunque andiamo facciamo l'esempio pratico ecco questo giusto per farvi vedere questa parte qui comunque facciamo un esempio pratico noi dobbiamo monitorare un intervento che cosa facciamo clicchiamo su progetti e nel momento in cui clicchiamo su progetti abbiamo la possibilità di fare la ricerca del nostro progetto in due modi o tramite ricerca progetti se clicchiamo ricerca progetti più o meno in questo campo qui noi abbiamo la possibilità di inserire il coop oppure si può fare direttamente la ricerca delle versioni del progetto io ho fatto questa qui cliccando su ricerca versioni progetto si apre questa schermata ok nella quale io posso mettere il codice del progetto e lo inserisco qui questo è un progetto è un finanziamento per come vedete per la scuola di Tagliacozzo intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado abbiamo qui le versioni del progetto come vedete ci sono tutte le scadenze del monitoraggio tutte le scadenze del monitoraggio di cui vi parlavo precedentemente 31.10 31.12 28.02 30.04 adesso siamo a quella del 30.06 vedete il 30.04 era stato messo in verifica locale 30.06 siamo nella stato versione inserimento vuol dire che il il progetto deve essere appunto in questa fase può essere il monitoraggio può essere alimentato dal responsabile dell'inserimento per aprire il progetto che cosa facciamo clicchiamo su coop questo è un link ok quindi nel momento in cui clicchiamo sul coop diciamo finta che abbiamo cliccato ci si apre questa schermata che è la schermata principale diciamo quella dei dati generali come potete vedere sulla sinistra si è aperto un ulteriore menu che è quello proprio interno diciamo proprio del progetto e qui abbiamo le sezioni principali l'anagrafica dei progetti che è quella dove siamo la sezione finanziaria la sezione fisica degli indicatori la sezione procedurale i soggetti correlati e la procedura di aggiudicazione e piano di committenza allora in questa schermata che è una schermata generale noi abbiamo le informazioni appunto del progetto quindi qual è lo strumento attuativo qual è l'inizio dello stato cioè la data in cui è stato inserito l'intervento per la prima volta su SGP quando è previsto che questo intervento venga concluso ed eventualmente se c'è una data effettiva come in questo caso abbiamo poi il codice del progetto che è quello di SGP il CUP e abbiamo poi delle informazioni che ci vengono riportate che sono le economie e il costo totale dell'intervento qui abbiamo poi i dati generali della programmazione quindi quali sono gli obiettivi di questa programmazione sono dati che derivano dal quadro strategico nazionale riferiti naturalmente al singolo intervento la localizzazione come vi dicevo che bisogna assolutamente inserire le coordinate geografiche come vi dicevo prima che dobbiamo assolutamente inserire e poi abbiamo su questo tab report gestionali possiamo estrapolare dei file che in formato excel o in formato pdf ci riportano una sintesi dell'intervento abbiamo poi il tab stati che è dove praticamente andiamo a fare il famoso passaggio dello stato da inserimento in questo caso perché siamo con un'utenza r.i. da inserimento a verifica locale e il tab controlli dove possiamo fare i controlli ma ve lo faccio vedere questo qua alla fine allora iniziamo passiamo dall'anagrafica progetti passiamo a sezione finanziaria che è quella comunque più importante abbiamo cliccato facciamo fin adesso abbiamo come se avessimo cliccato su sezione finanziaria il primo tab che vediamo è finanziamenti e qui è riportato la fonte del finanziamento ok quindi stato o fondo sviluppo e coesione in che anno è stato finanziato questo intervento qual è l'importo del finanziamento e se questo finanziamento deriva dalle economie in questo caso vi è la spunta non vi è la spunta sulle economie troviamo scritto no perché non deriva da una riprogrammazione di economie questo è il significato di questo di questo no che troviamo nell'ultima colonna ora qualora noi volessimo modificare questo finanziamento perché magari non so è stato erroneamente indicato abbiamo scritto virgola 56 al posto di virgola 55 basta cliccare su stato fondo sviluppo e coesione si vedono in tutte le le pagine si vede sempre qual è il link perché è in blu ed è sottolineato e nel momento in cui andiamo a cliccare qui adesso non ho fatto lo screenshot ma mi si apre una semplice tabella sotto dove ho la possibilità trovo importo la possibilità di editare l'importo nel momento in cui l'ho editato faccio salva finanziamento ecco questi questi pulsanti li troveremo in tutte le sezioni e sono quelli che servono appunto per alimentare inserire e modificare i dati se devo modificare clicco su quello che già è inserito si apre sotto una schermata e modifico qualora dovessi inserire un nuovo finanziamento cosa che accade naturalmente all'inizio di un di un di un iter procedurale ecco basta fare nuovo finanziamento e selezionare quelli che sono inserire quelli che sono diciamo i campi obbligatori che sono sempre indicati in blu scuro con l'asterisco inserisco i campi obbligatori e faccio salva finanziamento qualora per esempio ci fosse un finanziamento un cofinanziamento comunale ecco farei nuovo finanziamento inserirei appunto qual è la fonte e qual è l'importo e appunto il salverei e il nuovo finanziamento si andrà ad aggiungere come un'ulteriore riga qui sotto passiamo poi al secondo tab facciamo fin da adesso che clicchiamo su piano costi il piano costi l'abbiamo visto anche prima ne abbiamo parlato anche relativamente agli errori e warning qui il sistema vuole sapere sostanzialmente come è articolato come è articolato l'intervento nel tempo quando andremo a realizzare determinati costi e se li abbiamo già realizzati come costo realizzato si intende sempre un pagamento effettuato ora considerate che questo intervento è stato concluso ok è stato concluso con pagamenti a 31.219.18 e infatti io trovo nel 2021 vedete trovo un costo totale di 31.219.18 un costo da realizzare naturalmente pari a zero questo potrebbe essere valorizzato solo se fosse un relativo al 2022 o al 2023 e un costo realizzato appunto perché è stato già pagato di 31.219.18 ora per farvi capire come funziona il sistema abbiamo visto il finanziamento totale torno un attimo indietro è di 49.152.56 questa cifra qui deve fare scopa utilizzo questo termine un po' così terra terra però per capirci al volo deve fare scopa con il costo il costo totale sommato vado avanti di due slide all'economia che abbiamo inserito ok altrimenti il sistema ci dà un errore perché ci dice come è possibile che hai un costo totale diverso da quelli che sono i costi realizzati più le economie e questo non è naturalmente possibile ora già che ci troviamo nel tab economie vi spiego banalmente ecco anche in questo caso qualora appunto fossero accertate delle economie responsabili dell'intervento deve cliccare sul tab nuove economie si apre sempre una finestrella sotto dove ho dei dati molto semplici da inserire è anche molto intuitivo capirlo perché ripeto i dati i campi obbligatori sono indicati in blu scuro con un asterisco e il sistema non ci chiede ne intratto che inserire l'anno in cui è stato è stata accertata l'economia la fonte del finanziamento che è un menu a tendina e la quota che è pure un menu a scelta obbligatoria in questo caso il finanziamento era obiettivi di servizio quindi la quota dell'economia è solo sugli obiettivi di servizio qualora avessimo avuto un progetto con un cofinanziamento comunale avremmo dovuto imputare l'economia pro quota appunto sia alla quota comunale che alla quota regionale qualora dovessimo modificare anche in questo caso basta cliccare sull'anno vedete l'unico link perché in blu ed è sottolineato si apre lo stesso la stessa schermata sotto dove abbiamo la possibilità di fare le nostre modifiche e modifichiamo e facciamo salva economie andiamo al tab precedente che avevo saltato che è quello del quadro economico qui semplicemente appunto andiamo ad inserire le varie voci del quadro economico quando clicchiamo su nuova spesa si apre una una sezione molto simile a questa dove possiamo inserire appunto l'importo della voce di spesa il tipo vedete qui ci sono già tutti i tipi cliccando su questo quadratino con i tre puntini abbiamo una serie di voci già predefinite dal sistema e in questo caso sono predefinite poi relativamente a ciascun tipo di intervento in questo caso essendo un finanziamento ad una scuola ha delle voci che non sono le stesse che troveremo in un finanziamento per un comune comunque sono le classiche voci di un quadro economico in questo caso abbiamo appunto progettazione e consulenze valore dei beni messe in opera dei beni spese generali accessori diffusione ovvero spese per trasferte pubblicità seminari eccetera quindi noi questa voce qui la sceglieremo cliccando su questo quadratino con i tre puntini e poi il sistema ci chiede di inserire lo stato della spesa cioè se è una spesa prevista che va qui o effettiva in questo caso il sistema diciamo anche se non ci dà errore ma avendo inserito già tutti i pagamenti noi qui dovremmo vedere tutto effettivo invece è rimasto previsto è un'incongruenza che non genera né un errore né un warning ecco ci tengo a specificarlo però un lavoro fatto bene richiede appunto la diciamo la la modifica di questo stato di queste voci appunto da prevista effettiva e come si fa a modificare molto semplice si clicca appunto sul link su questa voce si apre sotto e questo lo stato viene può essere modificato sempre cliccando sul quadratino con i tre puntini si apre una finestra dove abbiamo solo due voci o prevista o effettiva selezioniamo quella che ci serve e facciamo infine salva spesa e lo andiamo e vedremo che l'aggiornamento verrà visualizzato nella tabella del quadro economico andiamo avanti allora andiamo su impegni adesso eccoci qui che economia l'avevamo già visto poi andiamo ad inserire gli impegni l'impegno si inserisce sempre come abbiamo visto anche per gli altri tab nuovo impegno qui abbiamo la dobbiamo scegliere perché il sistema prevede anche di inserire un disimpegno ci può essere appunto il caso di un progetto che non va avanti ha delle problematiche e quindi magari l'intervento viene rimodulato ci sono degli imprevisti viene rimodulato al ribasso succede raramente come sapete però può accadere e quindi in questo menu a tendina noi possiamo scegliere sia la voce impegno che la voce disimpegno poi dobbiamo compilare il campo progressivo io suggerisco sempre anche per avere un monitoraggio che possa essere anche utile all'ente attuatore di inserire piuttosto che un numero progressivo quindi 1, 2, 3 eccetera suggerisco sempre di inserire il numero dell'impegno perché comunque ogni impegno ha un proprio numero qui è molto invece intuitivo la data e l'importo una volta che abbiamo inserito questi dati facciamo salva impegno e quello va a finire qui in questa tabellina ok andiamo infine all'ultima sezione siamo sempre qui nella sezione finanziaria lo ricordo andiamo nell'ultimo tab questi si chiamano tab e queste sono sezioni andiamo nell'ultimo tab che è quello dei pagamenti che è identico per funzionamento a quello degli impegni quindi qui sono tutti gli pagamenti che sono troviamo tutti i pagamenti che sono stati già inseriti dall'ente attuatore se qualora volessimo inserirne un altro non sarebbe corretto perché come abbiamo visto l'intervento è già arrivato a conclusione perché la somma dei pagamenti e dell'economia già fa il finanziamento totale comunque qualora volessimo inserire un nuovo pagamento clicchiamo sul nuovo pagamento si apre questo menu sotto inseriamo i dati richiesti e facciamo salva pagamento e va a finire qui dentro per modificarli sempre basta cliccare sul numeretto che come vedete è l'unico link che troviamo all'interno della tabella andiamo adesso avanti andiamo alla sezione fisica indicatori in questa sezione fisica indicatori appunto troviamo qui ci sono degli indicatori che sono diciamo obbligatori e sono l'indicatore di realizzazione fisica l'indicatore occupazionale e l'indicatore di programma questi tre devono essere sempre presenti altrimenti non possiamo fare il passaggio di stato qualora non fossero presenti come facciamo facciamo nuovo indicatore si apre questo menu in basso ok selezioniamo il tipo di indicatore l'unità di misura come vedete per esempio in questo caso l'indicatore occupazionale giornate uomo per la realizzazione dello studio o progetto stiamo parlando sempre di un finanziamento ad una scuola appunto per per acquistare delle dotazioni tecnologiche e naturalmente vuol dire che la scuola ha dovuto effettuare delle attività di progettazione ha dovuto effettuare delle attività dei seminari come non so se ricordate ma nel quadro economico era una voce anche abbastanza corposa quindi ha dovuto organizzare dei corsi per insegnare ai ragazzi come utilizzare queste dotazioni tecnologiche e quindi avremo un indicatore appunto questo è un codice che ci dà automaticamente quando lo scegliamo di quante giornate uomo sono state necessarie per la realizzazione dello studio del progetto quindi l'unità di misura è il numero l'andiamo a inserire qui dove era scusate l'indicatore la misura ecco qui e vedete anche il sistema ci dice che questo è un indicatore obbligatorio e qui abbiamo i dati che andiamo ad inserire appunto che riguardano l'effettiva attivazione di queste giornate all'interno del 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 progetto quante giornate uomo sono state attivate appunto come dicevo sia per l'attività di progettazione sia per l'attività di seminari di corsi necessari per capire come utilizzare queste dotazioni che sono state acquistate dalla scuola andiamo poi avanti andiamo alla sezione procedurale che è quella come vi dicevo prima dove spesso vi sono degli errori o dei warning ecco in questa sezione le tre sezioni sono già precompilate dal sistema ok quindi noi non abbiamo la possibilità di inserire delle nuove attività ma solo di modificare le attività che il sistema già ci dà e che sono predefinite a seconda del tipo di intervento che attuiamo e che di conseguenza monitoriamo quindi abbiamo la prima fase in questo la prima il primo iter la prima procedura ecco che il sistema ci dà per quanto riguarda questo finanziamento obiettivi di servizio alla scuola di Tagliacozzo era definizione della stipula del contratto quando noi andiamo a cliccare qui sopra abbiamo la possibilità di editare le date qualora noi ci cliccassimo ci troveremmo queste date qui ok le troveremmo scritte qui sotto e abbiamo la possibilità di editarle in questo caso parliamo di un intervento che è stato già concluso e come vedete tutte le date sono state tutte quante già inserite quindi ogni volta che si vuole alimentare questa parte o modificarla basta cliccare sempre sul link si accede alla possibilità di modificare questi campi e una volta fatto si fa salva attività la stessa cosa si fa per tutti quanti andiamo alla penultima parte del sistema di monitoraggio che sono i soggetti correlati come dicevo è necessario o è obbligatorio inserire alcuni tipi di soggetti per far sì che appunto il sistema non ci dia un errore questi soggetti sono il destinatario del finanziamento il programmatore del progetto e l'attuatore del progetto si inseriscono semplicemente facendo clic su un nuovo soggetto qui andiamo a trovare il soggetto facendo proprio una vera e propria ricerca cliccando sui tre puntini si apre una nuova schermata dove in questo caso possiamo cercare appunto l'istituto omnicomprensivo argoli se noi scriviamo argoli verrà fuori appunto l'istituto che è stato destinatario del finanziamento della regione qualora non ci fosse a sistema naturalmente bisogna provare perché il sistema ha tantissime anagrafiche qualora non fosse presente a sistema bisognerà inserirlo come vi facevo vedere all'inizio attraverso la funzione anagrafiche quindi il ruolo dobbiamo inserire il ruolo questi tre ruoli come dicevo sono obbligatori quindi il ruolo e poi fare salva soggetto infine andiamo all'ultima parte la procedura di aggiudicazione del piano di committenza a cui semplicemente andiamo ad inserire i riferimenti alla gara si inseriscono normalmente solo i riferimenti alla all'aggiudicazione principale alla gara principale quindi in questo caso essendo stato un intervento finalizzato principalmente all'acquisto delle dotazioni tecnologiche di ambienti multimediali e di laboratori appunto andiamo ad inserire quello che è stato il CIC principale finalizzato ottenuto acquisito per poter per appunto procedere all'acquisto di queste forniture allora una volta che siamo arrivati a questa fase diciamo abbiamo inserito tutto possiamo andare a fare l'attività di controllo quindi ritorniamo in questa sezione qui allora siamo partiti da qui anagrafiche dei progetti abbiamo visto sezione finanziaria sezione fisica indicatori sezione procedurale sezione soggetti correlati procedure di aggiudicazione e pieno di committenza io vi ho fatto vedere tutte le parti obbligatorie da 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 alimentare una volta che abbiamo alimentato tutto il sistema ho fatto le dovute modifiche possiamo ritornare in anagrafica dei progetti cliccare sul tab controlli e qui fare quello che vi dicevo prima cliccare prima su attiva la procedura attiva procedura che serve un pulsante che serve appunto per far fare internamente al sistema la verifica della 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 congruenza dei dati inseriti e poi successivamente sono andato avanti facciamo controlla esito una volta in questo caso per esempio il il progetto è stato correttamente monitorato e quando facciamo controlla esito il il sistema ci dice nessun dato trovato qualora invece vi fosse un errore lo troveremo qui con il codice come vi facevo vedere prima c'è un codice una descrizione dell'errore che sono quelli che vi ho fatto vedere prima e la categoria quindi a quale categoria di monitoraggio affidisce qualora noi trovassimo degli errori dobbiamo ritornare appunto sul sulle varie fasi correggerle e poi ritornare in questa sezione qui e fare sempre attiva procedura e controlla esito fino a quando non otteniamo questa questo messaggio appunto nessun dato trovato che viene riportato anche qui sotto non sono presenti errori in maniera più chiara una volta ripulito diciamo ecco il progetto del monitoraggio delle incongruenze possiamo andare all'ultima parte che appunto è il passaggio di stato quindi da controlli andiamo sul tab stati e qui attraverso un menu a tendina abbiamo la possibilità di mettere il progetto da inserimento lo possiamo mettere in verifica locale ok una volta che abbiamo selezionato verifica locale facciamo salva stato e qui sotto sotto inserimento viene troveremo un'ulteriore riga nella quale appunto potremmo vedremo appunto che il progetto è stato passato in verifica locale da quel momento noi non lo possiamo come responsabile intervento più modificare il progetto è andato al responsabile dello strumento che lo deve verificare e qualora vi fosse un problema e il responsabile strumento ce lo rimandasse indietro per una correzione noi troveremo qui sotto un'ulteriore riga con scritto per esempio utente inserimento appunto facciamo responsabile strumento data inserimento quando ce l'ha rimandato e qui troviamo in correzione ecco scusatemi sotto stato troveremo in correzione con la motivazione anche perché il responsabile strumento ha la possibilità di scrivere in un campo note il perché ce lo rimanda indietro ok e niente noi dobbiamo vedere verificare il perché di questa richiesta di correzione fare fare le dovute correzioni rifare i controlli e rifare nuovamente il passaggio di stato ok allora io a questo punto avrei concluso se ci sono delle ulteriori domande sono qui a disposizione allora grazie mille Angelo appunto abbiamo dato veramente una panoramica abbastanza puntuale di tutto il sistema di monitoraggio però appunto comunque come dicevo tutto l'assistenza tecnica è a disposizione per appunto l'affiancamento sui singoli interventi proprio a tal proposito vi propongo logicamente non fa parte del percorso di affiancamento e aggiornamento ma diciamo in via del tutto mirata per quasi laboratoriale rispetto appunto a questo incontro visto che appunto la settimana prossima mercoledì prossimo non è in calendario l'incontro da programma vi invieremo il link all'iscrizione di un laboratorio mirato solo ed esclusivamente al monitoraggio cercando appunto di mettervi proprio ad utilizzarlo quindi vi chiederemo appunto anche attraverso la condivisione dello schermo e attraverso quindi l'utilizzo di utilizzarlo e eventualmente vi assisteremo nel nell'attività proprio di monitoraggio allora ripeto visto che Giuseppe Consorte dice che non si è sentito che l'appuntamento consueto da programma non è appunto la settimana prossima ma è tra due settimane quindi di conseguenza la giornata diciamo successiva a questa presente è il 4 maggio alle 9.30 dove ci sarà appunto un altro componente la task force la dottoressa Stefania Maselli che ci parlerà appunto dell'attività di controllo di primo livello nel frattempo la settimana prossima quindi il prossimo mercoledì che se non ricordo male essere il 27 di aprile per chi vorrà e quindi manderemo un link per iscriversi potremo possiamo organizzare una sessione operativa di monitoraggio quindi con chi vorrà faremo una navigazione guidata e faremo un focus più puntuale proprio operativo sugli interventi che diciamo gestite e monitorate e anche sugli eventuali errori più o meno appunto la durata sarà sempre la stessa però appunto vi consentirà anche di interagire e magari appunto anche mettervi diciamo in gioco utilizzando il sistema SGP per chi logicamente non ha mai avuto l'occasione di poterlo fare altrimenti come sapete potete sempre attivare l'assistenza tecnica a supporto per il monitoraggio degli interventi allora detto questo spero che questa volta appunto si sia sentito ringrazio tutti vedo appunto non ci sono domande particolari Angelo appunto ha fatto appunto questa carrellata ci aggiorniamo quindi fra due settimane per il prossimo webinar e poi per chi volesse per mercoledì prossimo per fare un laboratorio operativo sul monitoraggio grazie mille e alla prossima buona giornata a tutti grazie arrivederci a tutti